Come mai alcuni uomini brillano se fossero personaggi pieni di luce? Un uomo all'inizio del suo cammino di vita. Questo cammino, dove comincia e dove finirà? Beh, il nostro mondo, come lo vediamo noi, è davvero soltanto tridimensionale? Tanti parlano di un universo multidimensionale, ma forse ci sono addirittura delle strutture complesse destinate a fallire. Forse la soluzione sta in un riconoscimento semplice. Questa è l'influenza del cerchio di vita, la perfezione dell'otto orizzontale con il suo ritorno continuo dell'incrocio tra la nascita e la morte, lo spazio luminoso. L'indipendenza dell'ultraterreno, dell'aldilà, si trasforma nel mondo materiale della vita terrena, finché questo mondo materiale finisce nel mondo segreto e invisibile. Un ciclo d'energia infinito all'interno di un sistema perfetto. Il divino e l'umano si fondono donandosi energia e spiritualità reciproca, per sempre e oltre. Il viaggio della tua anima ha un nome. Octolife Octolife Grazie.